Un buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma 4 km di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Imprunita e Incisa Reggello. In A11 rallentamenti per materiali dispersi tra il Vivio per la 1 e Prato Ovest in direzione Pisa. Sulla Fipili 2 km di coda in entrambe le direzioni per lavori tra l'Astra Assigna e Ginestra Fiorentina. Ricordiamo inoltre che sempre per lavori è chiusa fino alle 18 l'entrata di Ginestra Fiorentina in direzione Mare. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze Imprunita. Su raccordo Siena-Bettolle scambio di carreggiata per lavori tra Casetta-Monte Aperti e Castelnuovo Berardenga in direzione Bettolle. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!